Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo video con un nuovissimo gioco che ho trovato, Super Mega Archie, per quanto l'ho scontato. Ok, scanda descema. Volevo portarvi nella tasse a Assassin's Creed Syndicate, ma ho scoperto che di framerate è uno schifo, quindi ci ho rinunciato abbastanza in fretta. Ehm, direi di cominciare subito questo bel giochino. Ok, posso scegliere il mio personaggio. Ok, posso dargli anche il nome, mi piace, mi piace. Ma posso dare il nome a tutti o penso di poter dare il nome a tutti? Mi chiamo David17, chi sono tra chi? Il nome nero no, il vecchio, è il vecchio riconoscibile. Vai, vediamo un po'. Uh, ok, vabbè, sono in prigione. Mi sono un vecchio, sono un vecchio. Ok, penso di non potermi portare troppa roba addosso perché sennò me la sgamano. Oh, ok, devo dare, cosa è successo? Ok, gli item sono, oddio, buongiorno. Cos'è successo? Su, suol'attenti. Non so, sono un vecchio. Non so, sono un vecchio. Un vecchio pavoso. Sono un vecchio, sono un vecchio maniaco sessuale. Che ci volete da me? Che ci volete? Che ci volete da me? Stronzi? Stronzi? Ok, vabbè, fanno l'appello, siete tutti presenti, vabbè. Ok, questi credo che posso farci degli scambi, questi invece... Puppa! Ciao, Puppa. Questi non ci è toccato. Non ho mai so, non c'è asenca, oddio, ho fatto... Vabbè, non ci sono femmine. Oh, cosa c'è successo? Ok, devo andare a lavorare. Ok, perfetto, perfetto, il lavoro mi attende, il lavoro mi attende. Ah no, devo mangiare. Andiamo a un passoio, con due posatine, andiamo a questo, allora, andiamo a mangiare, là. Buona spavita, come si siede? Si siede, si dà un... ma non mi interessa ma che devo far è tutto da capirlo ok questi mi danno robe baccate ma questo come cazzo si si è davanti alla sedia vabbè questo si si è davanti alla sedia ma perché è più figo ok finiti di mangiare via via finiti di mangiare via 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 no si è bucato no calma oh calma dretto davanti a me carica dove devo andare adesso ok mo è il tempo libero faccio quel cazzo che mi pare devo trovare il modo per evadere questa è la mia cella ho preso un po' di robina che potrebbe tornarmi utile sinceramente non so neanche come si fa a scappare allora questo vieni qui nome giocatore yes yes facciamolo facciamolo non ci vede nessuno ci vede nessuno dov'è non ci vede nessuno ci vede nessuno ma questa è la palestra ha capito che vero non ho capito buongiorno ha visto quel che troiaio ha visto quel che troiaio me dico sì a tutti me ne frego io me ne frego dico sì a tutti non mi interessa non mi interessa ah ok vuole gli metto morto mi sa che ho sbagliato qualcosa mi sa che ho sbagliato help ti prego eh ok non posso entrare vabbè non ci entro non ci entro con calma oh scusi non entro stia tranquillo stia tranquillino stia tranquillino allora cacciavite non ce l'ho vero cacciavite non ce l'ho e va stai di tavolo no cacciavite non ce l'ho crafting non me li fa vedere ovviamente perché la cosa ci sta comunque che non mi faccia vedere i crafting oh qui c'è il poltrono oh devo trovare cosa è successo 12 ah ore di pranzo perfettissimo andiamo a mangiare faccio sempre dietro a mangiare vale facciamo regio ale buona roba di oggi c'è anche quei con voltini con cotorno di patate al forno buona c'è roba buona c'è qualcuno ragazzi stai cercando ah giù di posti aspetta vieni qui devo parlare con lei cavini ha rivelato che mi ha visto stai indietro io no no cioè sto cercando di capire no no non lo so dico sì a tutti cos'è successo si stanno si sono menati ok oh dica no non compro niente non compro niente non compro niente non ho fatto niente sono inocente sono inocente la prego la prego si fermi si fermi la prego la prego si fermi ok l'ho fatta l'ho fatta franca dica ah devo entrare qui vabbè no problemi ah no eh mi scusi cercano di capire no sberto mi scusi mi scusi arrivo ce l'ho fatta ce l'ho fatta sono un lavoro no ero intanto lavorare uffa che merda umane ce l'avevo fatta uffa ok sono un lavoro ok sono un lavoro niente di complicato prendiamo la roba d'acqua credo che debbo infilare la roba in lavatrice mica lavoro di merda però eh mettiamo la bella lavatrice che bello lavorare bello lavorare madonna che due palle ma c'è un modo per far prima no eh perché io sono ignorante come l'etame nei campi alle penso che essere a buon punto alle cotto puntino l'ultimo tac eh visto eh ho fatto un lavoro d'oro eh non è vero signore ah c'è ancora ma basta ma quante la macerie non è che posso a parte che ho distretto la finestra senza volerlo ma non posso selezionare più roba no eh 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 si ho modificato la finestra quindi si è leggermente inceppato va bene eh vediamo madonna che due scatole però eh due scatole in sto gioco pensavo che era la roba migliore ecco io prendo l'unica roba pulita perché sono furbo mh tac tac l'ultima divisa tac minghia come passa veloce il tempo quando ci si diverte tutto eh questo penso che sia da lavare ok no no va bene ok ecco devo mettere via la roba mi pezzi vabbè me la porto dietro va bene me la porto dietro no 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 ma non me l'hanno fatta posare uffa non me l'hanno fatta posare i stronzi che siete però eh non me l'hanno fatta posare va bene arrivo arrivo a palestra devo fare va bene te ne pensi un due un ah devo fare come si fa vabbè questo questo qui fa la palestra eh ah ok ho tutti sti lavori che non ho capito come si fanno io mangiarlo tutto perché non ho capito niente più che altro mi dica aspetti aspetti no no lui ha il lavoro migliore distrarre le guardie ok devo distrarre le guardie buongiorno buongiorno signora guardia buongiorno signora guardia eh c'ho un vestito per lei no non la posso non dare mi scusi ma come si fa vabbè ho distratto le guardie sono stato bravo ho distratto le guardie guarda ho distratto le guardie va bene va bene va bene va bene va lì va lì va lì ok la doccia andiamo a fare la doccia perché pusto che è una nana incredibile pusto 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 la ale da la 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 ci andiamo a lavar oh no 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 non si cazzi non si arrapi non si istichi ho sbagliato a cliccare non si cazzi no prego no la prego mi scusi non si cazzi andiamo a dire ah ok arrivo 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 sono qua sono qua arrivo 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 ci vado ci vado sono qua ale che bello no 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 con calma vedi se ne è incazzato ah bella peliccia bello fresco là aspettate che non mi vede nessuno io gli giuro la roba non mi ha visto nessuno vai stavolta sto iniziando a capire come funziona il gioco e sto iniziando a capirlo vai 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 sto iniziando a capirlo ok cena 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 alle cena alle ma quindi ci vado a vedere eh però non l'ho ancora fatto sta cosa distrai mail mail cosa vuol dire meal distrai meal ah ok devo distrarre a pasto quando mangiamo distrai evening meal va bene aspetta eh trevor guarda che ce ne si chiama meal qui non ce ne si chiama meal ma che è dura capirlo eh aspetta aspetta grazie per il posto no non è questo quello che devo fare mi scusi lei madonna che casino aspetta dov'è quello sussi dov'è sussi no si fermi dovevo fare la missione si fermi maledetto non sono buona a un cazzo di sto gioco non sono buona a niente uffa si può salvare non si può salvare dio dove cazzo devo andare mi sono perso davvero devo scendere di qua no questo è il fuori dove cacchio devo andare però ho un po' di roba ho una zappa ma la zappa vuoi che non mi torni utile la zappettina la zappettina mi tornerà utile senz'altro è di qua ma aspetta questo credo che sia camera mia ah perfetto vai usiamo un po' di roba la che questo mi sa la bottiglia di medicina mi sa che tornerà molto utile la bottiglia di medicina il resto il resto provo a infitarmi in una stanza più un altro vediamo cosa c'è questo qui dentro c'è qualcosa uuuu quanta roba vai 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 un orologio la tessera una rotta di capiglia vabbè questo avevo un po' di roba ce l'aveva non si alteri mi scusi allora devo capire più che altro come funzionano ste cose però il gioco in sé è molto mi sta mi sta rincoglionendo parecchio eh che cosa ah non posso telefonare va bene vabbè contentissimo contentissimo bene ragazzi spero che questo video vi possa essere piaciuto spero che come vi porto questo giochino qua spero che vi possa essere piaciuto mi raccomando datemi consigli qui sotto se volete che ve lo riporto queste cose qui non vi alterate no bravo non mi alterate mi raccomando ragazzi lasciate il pollice se vi è piaciuto questo video mi raccomando non lasciate la sondra su questo video commentatelo condividetelo ovunque anche al ciasso mi raccomando e niente per un momento possiamo dire che è finita sì sì faccio qui e mi sono malento malento perché sono scasso dai